Terra e sapori e vini ancora in vostra compagnia, ancora gli aggiornamenti, viaggi, le avventure, i percorsi attraverso i grandi sapori d'Italia, i grandi territori, ma soprattutto in questo caso i grandi vini, Paolo Pizziola, Villa, realtà Franciacortina, comune di Monticelli Brusati, bollicine su tutto. Assolutamente, qui siamo in Franciacorta, quindi il vino principale chiaramente sono le bollicine, è il Franciacorta, un'azienda storica, un vecchio borgo del 1500 dove il vino si è sempre fatto, nella testimonianza la vecchia cantina e dove però dagli anni 70 anche qui si è iniziato questa avventura delle bollicine che nascevano in quegli anni e da lì poi pian piano l'azienda si è sviluppata ed oggi è una realtà prevalentemente di bollicine. Parliamo per 30 secondi, il territorio, che terroire abbiamo qui? Allora, la Franciacorta ha un territorio che non è uguale, abbastanza diverso a seconda delle zone, in particolare abbiamo una zona centrale che è di origine morenica, mentre qui ci troviamo in una realtà di origine di marna, di territorio di origine marina, di formazione più vecchio, datato tra i 160 e i 140 milioni di anni fa e con questa realtà appunto di un terreno di roccia sedimentare, roccia marina, che dà una mineralità, una struttura particolare ai vini. Ho visto la parte antica delle cantine, ma poi quella degli anni 70 è la parte scavata sotto i vigneti. Esatto, negli anni 70 quando si è iniziato a far bollicine è stata fatta una prima, diciamo una seconda cantina dedicata a questo e poi dagli anni, fine anni 80 in poi invece si è scavato nella collina per andare a costruire le cantine per l'affinamento, per diciamo anche la lavorazione dei vini e così via. Quanti vini producete? Allora, abbiamo una gamma di 8 bollicine, di 8 Franciacorta, tutti millesimati perché facciamo solo millesimato e proprio per scelta aziendale utilizziamo solo le nostre uve, millesimiamo tutti i prodotti, minimo 36 mesi di permanenza in cantina sui lieviti per arrivare poi a 10 anni con delle riserve. E poi abbiamo mantenuto comunque anche una produzione di vini fermi che rappresentano la nostra storia e quindi abbiamo 4 tipologie a seconda dell'annate, comprese le riserve, 4 tipologie di vini rossi e 2 di vini bianchi fermi. Hai capito che bella realtà, abbiamo citato o per meglio dire hai citato il borgo medievale che vive oggi come oggi perché qui c'è una grande ricezione turistica anche come azienda. Sì, abbiamo questo vecchio borgo dove in origine c'erano le stalle, la parte agricola e abitavano una ventina di famiglie di salariati che vivevano in azienda, pian piano si è vuotato, le stalle le abbiamo chiuse e ci siamo dedicati alla parte vitinicola. Quindi c'era un borgo da recuperare, da ristrutturare e a partire dal 91 abbiamo iniziato un lavoro di recupero dandogli una destinazione agrituristica. Completiamo in bellezza villa come realtà di cantina, come realtà aziendale e i suoi eventi. Durante l'anno voi siete sempre in movimento. Sì, diciamo che noi crediamo sia molto importante far assaggiare e conoscere direttamente il prodotto, quindi più che investire in pubblicità tradizionali preferiamo promuovere degli eventi, delle degustazioni, delle visite in cantina e quant'altro e quindi tutta una serie di promozioni dove andiamo a far conoscere direttamente il prodotto. Paolo io ti ringrazio tantissimo della tua gentilezza, del tuo tempo, come dico sempre spesso e volentieri anche ai tuoi colleghi facciamo una bella cosa perché parlare va bene bene, ma bere meglio se gentilmente io ti faccio lavare e vuoi già cominciare a prendere una bottiglia firmata villa e farmi gustare due bollicine, io intanto no, scherzi a parte, ringrazio loro come azienda l'attenta regia di Pietro Marcellino, terra e sapori e vini, rimanete con noi con i nostri aggiornamenti perché portiamo sempre nelle vostre case l'Italia che piace. Grazie. Grazie.